Mamma mia, ma che cazzo vuoi sta merda? Aspetta che se città mettono statrizi di merda che servano anche a cazzo Allora mentre stavamo qui a far video abbiamo trovato Giulia che stava camminando Quindi l'abbiamo un attimo introdotta per vedere un attimo se ci fa vedere anche lei come fare gli esercizi E io lo spieghiamo noi Mamma mia, ma che cazzo vuoi sta merda? Aspetta che se città mettono statrizi di merda che servano anche a cazzo Cioè faccio pure col battito delle mani Perché è una legge station Mamma mia, che schifo è sta Adesso che se città mettono statrizi di merda Io ti ho capo pure piano che sto da passaprolla Capirei? Però dal minimo che c'è sta magari cerchiamo di far vedere col minimo se ricavamo il massimo di quello che stiamo a fare Comunque ti ho capito attenti che qui ovviamente che si spezzano Questa che è? L'app machine Adesso vi spiego quest'attrezzo di merda Vediamo come poterlo fare Allora questa si vede spinta al petto Allora ti metti in questa maniera Questa si vede spinta al petto Così cerchiamo di fare un minimo di adduzione E spingiamo col petto Mamma mia, sembra che è stato un seccolone Ma che sei, le montagne russe Ciò vedete al petto lavoro comunque Anche i tricipiti lavorano Che comunque stai sollevando il tuo corpo Cioè il problema è da capire che pesa 93 kg Certo se siete i secchi rachitici che sollevano Ma chi basta un cinipindus? Allora qui abbiamo visto l'esercizio L'esercizio per le spinte Che c'è un petto per i tricipiti e il c'è un parpetto A colpo libero che si può fare Ora andiamo a vedere Questa simulazione dell'app machine Che è un esercizio di tirata Allora ragazzi Questa invece è una simulazione di lap machine Quindi è un esercizio di tirata Abbiamo fatto vedere Anche con una buona adduzione Riesce a convolgere in maniera effettiva Sia il bicipite Perché comunque mentre tirata il bicipite Che il dorsale Ovvero è il mantello del batman Quindi è un esercizio Lavorandoci bene Tecnicamente si può fare Ok Guardate Un'ottima di su Ma c'è una bella forza di braccia No? E potete anche metterci Due o tre secondi di esometria De fermo Se state potenti come il profeta Certo se state qui Di mezzo di pippe Meglio che i fermi Anzi è meglio che vi fermate proprio Questi i suoi fermi Isometria E scendi giù Allora adesso Vamo che? A leg station Leg station machine Vediamo un po' Ci sediamo Beh Ragazzi io c'ho le gambe forti Qui a peso mio Manco lo sento Ci vado a rada libera Questo Addirittura può anche farlo Con una gamba Ci lo vedi Alternato Ma diciamo Sono lavori Che puoi fare anche Magari in super serie Puoi fare con degli affondi In camminata Siete ciccioni Che vi pesa il culo Beccata questa triple XL Sto prosciutto cotto Questa invece È una leg press orizzontale Ma è che è pvc video La proviamo un attimo Vediamo Allora questa è una press orizzontale Che alla fine Non è per persone esperte Come il profeta Che questa la faccio col mignolo Però per persone Che non hanno mai fatto un cazzo Che ne pesano 300 kg Che sono abitato A mangiarsi di poppocorne Sul divano Alla fine Ti eviti di sovraccaricare Inutilmente sulle ginocchia Quindi per un principiante Che non ha mai fatto un cazzo Evitando di sovraccaricare la schiena Che comunque si fa sponnare Può utilizzare questo attrezzo Anche magari con dei fermi Ci può mettere pure Da affondi bulgheri Possiamo fare degli squat A corpo libero Quindi tutto sommato Si può fare Con varie tecniche di intensità Allora mentre stavamo qui A far video Abbiamo trovato Giulia Che stava camminando Quindi l'abbiamo un attimo Introdotta Per vedere un attimo Se ci fa vedere anche lei Come fare gli esercizi E io lo spieghiamo noi Io le metto su youtube Se va bene? Non è che c'è denunci dopo Ok Ok Ci stanno i nostri esercizi Diciamo in tutta Italia No? Sassaro faccia Che vediamo in giro Ma tu le hai usate mai? Ma ho sempre voluto farli Però in realtà Nessuno mi ha spiegato Come si buserà Quindi io Non li ho più fatti Ti preoccupate Ci sta provare Da la verità Come lo spiego io Allora Ciù Adesso andiamo a vedere Queste spinte al petto Che è una simulazione De chest press Vai allora Ti siedi comodamente Come fa a palestra E' stata la finestra A marfarco Però allora Tu cerca di durare Una prima di scapole Nel senso che metti Scapole dietro Così almeno Preservi le spalle E tu spingi in alto Quindi alla fine Sollevi il tuo corpo Bravissima Piano piano Restirazione Butti fuori l'aria Ma fammi un po' Un po' di ripetizioni Brava Ok Prendi aria La butti fuori Ma riga Almeno Una ragazza Che mi fa un po' De braccia Un po' De petto Viste tutte Che mi fa Nei cambi I glutei Ok Bravissima Quindi in alto Facciamo un attimo Vedere Ok Vedete Alla fine Sollevi il tuo corpo Diciamo Uno stimolo Ipertrofico Si può dare Anche con questo esercizio Allora A giù Te faccio vedere Un altro esercizio Questa è una simulazione Dell'Hut machine Ma adesso ce la vai No Quindi la conosci Allora Mettate la sedia Un attimo Bravissima Ok Prendi Brava E sollevi in alto Quindi diciamo Con questo esercizio Recluti principalmente Il dorsale E anche i bicipiti Infatti Andiamo a vedere pure I bicipiti Che si contraggono Bravissima C'è pure qualche fermo Quando stai in alto Vai brava Spingi in alto Rimani ferma Due secondi Ok Scendi 18 Che tosta Ma gli rachiti Ci non la fanno Invece Noi che siamo possenti Bravissima Ok Allora ragazzi Adesso Facciamo un po' D'addominali Che in estate Dovemo far vedere Scitofono No Siccome questo è sporco Quindi portatevi N'asciugamano Che in estate Che ce la fanno Qua sopra Utilizziamo Quest'attrezzo Per gli addominali Ovviamente Se scioglete il 40% Dei bf Non vale Quindi sollevate Le gambe E buttate l'aria Ok Questa è la seconda Versione Che ti fa sventrare Pure Natale Per 2000 Quindi portate Le ginocchia In avanti Ovviamente La respirazione Importante Non mettete In apnea E non dopo Uscire proprio Contratti Questo Per le donne È perfetto Aciù Se vuoi Comparire Con l'addome Ben in vista Quest'estate Mettete A fasta Esercizio Per gli addominali Ti faccio Pure il piedone Al profeta Ok Faccio vedere La prima versione Con le gambe In avanti Ok Bravissima Tutti l'aria Ok Guarda Questa ellittica Sarebbe pure ottima Per fare un po' Di riscaldamento Per le donne Però quanto faranno Sponnata Quindi Non fanno manutenzione Quindi hanno fatto un cazzo Vabbè Ve lo faccio vedere Un attimo Tre secondi Ma che Mamma mia È proprio sponnato Cosa che vi dico Fate per la corsetta Che è meglio Perché questo è sponnato Vabbè Oh brava Ciò Ha capito Che veramente Almeno per riscaldarsi Qualcosa L'ho cavato Se no dopo Se freddiamo C'è sta pure vento Sì questo è anche Ottimo Per riscaldarti Comunque Prima di fare le gambe Le fatte uno squat Le fatte una pressa Quindi questa E l'ellittica Vanno bene Allora Giù Come ne avete S'assemblato Questi esercizi Abbastanza semplici Adesso le so Più o meno Come funzionano Verrò più spesso Sicuramente Da venare No Quindi Da quando il profeta Ha fatto vedere il tutorial Pure gente Che abbiamo conosciuto qui Almeno La incentiviamo A provare questi attrezzi Nei parchi d'Italia Ciao Stavo ad andare via Stavo ad andare via Mi sono visto Queste quattro sbari Per fare qualche esercizio Per fare un po' Ah ma da quando c'è arrivo Vabbè Le relazioni ce le può fare Poi che c'è sta qui Invece questi più bassi Si possono usare Come spiegamenti Si In tutto ciò Il profeta Che cosa vi vuole insegnare Che comunque Almeno Comunque lo stato Si disordia Ha spesi bene Possere spenderli A cazzate Hanno messo Delle attrezzature Che comunque Io pensavo Che erano delle minchiate Però un qualcosa Possono fare Se riuscire Ad utilizzarli Come va detto il profeta Comunque lo stato Dovrebbe spegnere più St'iniziativa Diciamo di mettere Questi attrezzi Nei parchi Perché alla fine Un qualcosa fanno E' Beccateve sti mappamondi St'iniziativa Nost'iniziativa Grazie a tutti.